Tiziano Renzi guarda avanti, il padre dell'ex premier, al centro di varie vicende giudiziarie, non rinuncia all'impegno per il proprio paese, Rignano sull'Arno. Lasciata da parte la politica, anche a livello locale, dopo essere stato per anni segretario del PD rignanese, Renzi Senior ha partecipato alla prima iniziativa di una neonata associazione che parla di ambiente e di alimentazione. In un'ottica di un'attenta osservazione delle esigenze del nostro territorio, del nostro paese, di vitalizzarlo con iniziative culturali, ricreative, di attenzione al benessere dei cittadini, di sviluppo educativo delle nuove generazioni. Parliamo di dieta, ma dieta su misura, di medicina personalizzata, perché la dieta è il primo strumento per stare in forma, per essere in salute e soprattutto per prevenire le malattie. Quindi l'alimentazione che cura e guarisce, ma deve essere personalizzata per essere precisa. E oggi la medicina di precisione è lo strumento che abbiamo a disposizione per intervenire sulla persona e sul paziente quando è presente la malattia in modo efficace, nel senso di riuscire a guarire e curare e a far guadagnare salute.